È tornata sotto controllo la situazione a follo dove nelle prime ore della domenica di Pasqua un vasto incendio ha interessato nella notte l'azienda Ferdeghini, l'impianto di trattamento rifiuti che si occupa della selezione, del recupero e dello stoccaggio di materiali pericolosi e non. Il sindaco Giorgio Cozzani ha riferito che i 25 sfollati sono rientrati nelle loro case mentre le ordinanze che vietano il consumo di acqua sorgiva e ortaggi locali, valide anche a Bolano e Avezzano Ligure, verranno ritirate solamente dopo l'esito delle analisi di Arpal e Asl. Il rogo che ha mandato in fumo diverse tonnellate di rifiuti è scoppiato poco dopo le 3 e 15. I carabinieri non escludono per il momento l'ipotesi dolosa e hanno acquisito le immagini delle telecamere di sorveglianza dell'azienda.